Verrà aperta lunedì mattina l'area triage dell'ospedale di Sciacca. A farlo sapere oggi pomeriggio è stato Alberto Firenze, commissario ad acta per l'area medica del Giovanni Paolo II, il quale ha aggiunto che tra oggi e domani l'area in questione sarà sottoposta a pulizia per poter accogliere già da lunedì i pazienti con sospetto Covid-19 in attesa di tampone. L'area triage, precisa il professore Firenze, sarà così composta due stanze in isolamento, di cui una dedicata a pazienti pediatrici o soggetti con grave rischio o positività in attesa di accertamento, una stanza con due rispettive postazioni distanziate tra loro, tre box isolamento a pressione negativa, di cui una per pazienti cardiologici e due per sospetti positivi in attesa di tampone. Dopo 15 giorni dal mio insediamento come commissario ad acta dei presidi ospedalieri di Sciacca e Ribera, ha detto Firenze, e nonostante innumerevoli difficoltà riscontrate a livello strutturale e logistico, si è dato pienamente seguito all'esigenza già definita prima del mio arrivo, ovvero la definizione di un'area Covid-19 che fosse dedicata ai casi da accertare. Alberto Firenze poi avverte che il lavoro da portare avanti è ancora lungo, ma con tenace collaborazione di tutti, così come grazie alle donazioni di dispositivi di protezione individuale che vengono chiesti giornalmente, riusciremo a dotare i nostri ospedali di strumenti adatti per fronteggiare l'emergenza. Per quanto riguarda la situazione dei tamponi, conclude Firenze, nell'attesa che la prossima settimana venga attivato un laboratorio unico per tutta l'ASPE di Agrigento presso l'ospedale San Giovanni di Dio, ad oggi i tamponi effettuati su operatori sanitari e pazienti vengono inviati al Policlinico o all'Istituto Zooprofilattico di Palermo.